E allora io invito a prendere posto in pista prima il leader, iniziando dal numero 90, Andrea Angione, 85 Marco Di Sisti, 81 Lorenzo Romiti, 80 Michele Lopiano, 86 Fausto Notari, 87 Roberto Vignocchi, 84 Massimiliano Bacci, 82 Cristiano Conti e poi il nostro super jolly Antonello Basto. E adesso invitiamo le follower, quindi la prima che chiamerò si affiancherà al numero 90, Andrea Angione, 69 Alessia Romanazzi, 68 Ilenia Cirino Groccia, 67 Anita Mariela Pinto, 66 Arianna Sirolli, 60 Svetlana Lemonova, 64 Barbara Truffone, 62 Olivia Nasi, 63 Iris Diasio, 72 Asia Amato. E adesso chiediamo alla nostra campionessa europea, di quante postazioni avanzano i leader? 5, quindi i leader avanzeranno di 5 dame. E' capitato, è capitato, casualità. E adesso così come state un bel giro di pista e vi diciamo cosa ballerà questa prima formazione. Forza, non siate timidi col giro di pista, 3, 2, 1, via, giro di pista, partiti. Orchestra Carlos Vissardi, solamente Asia. . quella quantità precedente delle piccole della tua stagione della tua stagione delle bellezza delle pernici quelle cose ridurte levy, il piede può essere stato, le ي написano della tua stagione delle quelle potricione delle levesse. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti.